I bambini maltrattati si portano addosso il peso degli abusi subiti. Per questo CAF, da oltre 30 anni, aiuta i minori a superare le esperienze traumatiche che hanno vissuto e a ritrovare la leggerezza che la loro infanzia si merita. Dal 25 novembre al 15 dicembre, manda un SMS al 45502 Sostieni le attività di accoglienza e cura dei bambini. 45502 CAF. Bambini si diventa. Bambini si diventa.